Andiamo avanti con la quinta piattaforma, Scienze della vita, la referente scientifica e il tutor, Laura Calzà. Grazie. Come possiamo introdurre Calzà, la quinta piattaforma, per aiutare i nostri blogger poi a scrivere? La introduciamo con la definizione che di salute dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è solo assenza di malattia, ma benessere dell'individuo. E questo inquadra anche il lavoro che viene fatto all'interno della piattaforma, che è a 360 gradi, centrato sull'individuo. Quindi si va dalla prevenzione, prevenzione intelligente che passa attraverso gli stili di vita, ma passa attraverso anche l'alta tecnologia delle omiche, delle omiche accoppiate a una lettura intelligente dei risultati, passa attraverso la diagnostica microinvasiva per fare prevenzione secondaria. Quando, ahimè, arriva la malattia, passa per le alte tecnologie, prima e fra tutte la medicina rigenerativa, la nostra rete è straordinariamente forte sulla medicina rigenerativa. Attenzione, vista l'attualità, è evidente base medicine, non proclami, quindi solidamente ancorata alle venienze scientifiche. Abbiamo competenze straordinarie per la personalizzazione del delivery di farmaci, quindi anche la vecchia pillola è reinterpretata all'interno della nostra piattaforma. Arriviamo all'aiuto straordinario che tutta la bioingegneria e i nostri bioingegneri danno ad esempio al paziente che ha una qualche forma di disabilità o che va aiutato a produrre il massimo del recupero possibile. Insomma, nella nostra piattaforma ormai il termine interdisciplinarietà non esiste assolutamente più. c'è un problema centrale, attorno a questo problema centrale lavoriamo tutti insieme, al di là di qualunque distinzione e collocazione geografica, con una straordinaria integrazione di competenze che vanno dal medico al biotecnologo, al chimico farmaceutico, al chimico, all'ingegnere, all'informatico e abbiamo anche i matematici. Grazie Calzà, grazie davvero. Sarà felice degli esposti e della presenza dei matematici. Allora questa presenza di contaminazioni differenti la scopriamo con i rappresentanti di laboratori e di impresa della quinta piattaforma, Anna Tampieri e Simone Sprio e poi per l'impresa Finceramica Daniele Pressato. Inviterei gli interlocutori a raggiungerci al centro del palco della biblioteca, anche a loro cinque minuti per il laboratorio e cinque minuti per l'impresa. A voi la parola. Prego. Grazie. Salve a tutti. In questi cinque minuti proverò a raccontarvi la storia del nostro gruppo di ricerca che da ormai venti anni si dedica attivamente allo sviluppo di materiali e dispositivi per la medicina rigenerativa, in particolare per la rigenerazione del sistema muscolo-scheletrico, quindi ossa, cartilagini e regioni articolari. Questo per noi è un motivo di stimolo e di aumentato entusiasmo per la nostra ricerca perché immaginerete tutti che impatto hanno le malattie degenerative, i traumi sul sistema muscolo-scheletrico. Non poter camminare, muoversi come si vorrebbe. Una persona può avere la vita completamente distrutta dall'occorrenza di un trauma o di una malattia a carico delle ossa. Un altro motivo di entusiasmo e di stimolo è il fatto che rigenerare l'osso non è un compito semplicissimo. Le nostre ossa sono forse l'esempio più affascinante di nanotecnologia che la natura ci offre. Praticamente è un sistema in cui collagene e calciofosfati di nome idrossiapatite sono intimamente connessi su scala nanometrica per organizzarsi gerarchicamente su più livelli dimensionali quindi diventare un oggetto che unisce flessibilità e leggerezza in una maniera eccezionale, in una maniera irriproducibile. E quindi una ventina di anni fa abbiamo iniziato a sintetizzare in laboratorio i componenti della parte minerale dell'osso quindi le idrossiapatite. Abbiamo imparato a sintetizzarle ed introdurre nella sua struttura quelle fasi secondari, quegli ioni come il magnesio, il carbonato, che ne accrescono l'attività e che danno specifici stimoli cellulari che permettono la rigenerazione del tessuto una volta impiantati in vivo. Col progredire della nostra esperienza e conoscenza siamo arrivati alla comprensione che dovevamo cercare comunque di simulare la struttura dell'osso il più possibile. Quindi abbiamo imparato dalla natura a far formare calciofosfati, questi apatiti, direttamente sul collagene che è una delle componenti dell'osso. In pratica abbiamo riprodotto in laboratorio gli stessi fenomeni che nel nostro corpo danno origine alla formazione di osso e quindi siamo riusciti a ottenere l'assemblaggio del collagene e la contemporanea formazione della fase minerale all'interno delle fibre di collagene in una maniera che è esattamente simile a quella che avviene nel nostro corpo. Quindi da questo processo si sono originati dei costrutti che mimano molto bene l'osso giovane, nell'osso umano appena formato e infatti poi mediante test cellulari, mediante test su animale e in vivo si è dimostrato che questi materiali hanno un'eccezionale proprietà rigenerativa proprio perché somigliano molto, mimano perfettamente da un punto di vista chimico-fisico e strutturale, morfologico, il tessuto vivente. Questa è storia ormai consolidata, quindi stiamo sempre andando avanti nel tentativo di ottenere materiali e dispositivi sempre più simili e sempre più performanti. Una delle linee che stiamo sviluppando adesso è l'applicazione del magnetismo ai nostri dispositivi. In pratica siamo riusciti recentemente a sintetizzare un'apatite, un calcio-fosfato che oltre a rassomigliare molto alla parte minerale dell'osso contiene piccole quantità di ioni ferro che permettono la sua attivazione magnetica. In sostanza questo è un passo avanti che può aprire grandissime prospettive perché immaginate di avere degli impianti che possono essere attivati dall'esterno mediante campo magnetico e che possono stimolare direttamente le cellule nei processi rigenerativi o addirittura che possono richiamare dei farmaci o dei fattori di crescita direttamente sul sito di impianto evitandone la dispersione e quindi rendendo le cure molto più efficaci. Questa è una ricerca in cui stiamo credendo molto e che la stiamo ancora portando avanti ancora in fase di sviluppo, ma ce ne sono molte altre. Ad esempio potrei menzionare anche il fatto che qualche anno fa siamo riusciti a sviluppare un processo per trasformare dei legni in idrossiapatite con la stessa struttura del legno di partenza quindi con una struttura molto simile a quella delle ossa e questo è sempre in virtù del fatto di mimare le caratteristiche dell'osso e quindi poter introdurre nel corpo umano degli impianti che mimandolo da vicino possano attivare i processi cellulari di rigenerazione e ottenere poi la rigenerazione dell'osso così come era prima dell'incidente o della malattia e questa è una cosa molto importante perché prevede e permetterà in caso di successo di risolvere la vita a milioni di persone che altrimenti avrebbero la loro esistenza fortemente penalizzata. Quindi questo è quello in cui noi crediamo molto e siamo assiduamente adesso dietro di me vedete le foto del mio gruppo che sono circa 12 persone tra un po' più anziani e giovani ricercatori, tra fisici, clinici e biologi che formiamo insieme un gruppo molto sinergico per portare avanti i nostri materiali. Vorrei spendere le ultime parole per dire che invece la sinergia è molto importante quella che abbiamo con l'industria e con le cliniche ortopediche in questo modo noi abbiamo un continuo feedback e possiamo sapere di che cosa c'è bisogno in clinica e quindi noi possiamo focalizzare la nostra ricerca in maniera più efficace per ottenere proprio ciò di cui c'è bisogno perché poi vada sul mercato e quindi a disposizione di tutti. Ma, centratissimo. Allora non solo dimostrazione di grandissima competenza ma anche lì salta fuori un'enorme passione. Grazie moltissimo. Adesso in presa Igea. Ruggero. Finceramica. Scusami. Finceramica. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Daniele Pressato, sono il direttore di ricerca e sviluppo di Finceramica S.P.A. Chi è Finceramica? Finceramica nasce nel 92 come spin-off dell'ISTEC, l'Istituto di Scienze e Tecnologie dei Materiali Ceramici di cui Simone è parte, del CNR. All'epoca probabilmente chi ha iniziato questa attività è stato un pioniere perché insomma le spin-off nel 92 non erano così frequenti. Che cosa fa Finceramica? Finceramica si occupa di realizzare dispositivi medici per la medicina rigenerativa. Che cos'è la medicina rigenerativa? La medicina rigenerativa è una branca della medicina, naturalmente l'approccio è multidisciplinare come diceva la professoressa Pocanzi e si occupa di rendere disponibile all'utilizzatore finale, cioè il paziente e il sistema sanitario nazionale delle terapie innovative che siano in grado di rigenerare difetti ossei e difetti osteocartilagini. Quindi noi ci occupiamo dello sviluppo di questi dispositivi nel settore dell'ortopedia, della neurochirurgia e della chirurgia maxillo-facciale dove c'è la necessità di rigenerare osso o di rigenerare tessuti dell'articolazione come la cartilagine. La società ha 40 dipendenti, un quarto dei quali sono ricercatori che molti di questi li abbiamo strappati all'università, tutti hanno un elevato skills, hanno un postdoc, hanno formazione in università straniere e investe la società più del 30% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, attingendo da programmi di ricerca finanziata sia nazionali che internazionali, ma per il 70% la holding che è diventata proprietaria dell'azienda nel 2002 investe in ricerca e sviluppo e questo è un aspetto molto significativo. Cito un esempio di successo di collaborazione tra pubblico e privato, quindi tra un'impresa e il CNR di Faenza, ma non solo, noi abbiamo una rete, un network di istituti di ricerca pubblici e privati di circa 30 entità che sono sparse in Italia e in Europa. Volevo citare come esempio questa terapia che vedete nel video, il trattamento dei difetti osteoarticolari. La popolazione invecchia, ma anche la popolazione fa attività fisica, fa attività sportiva, quindi è soggetta a traumi, a malattie degenerative, specie del comparto articolare, specie il ginocchio, e una delle patologie più frequenti è la degenerazione della cartilagine che può portare con il tempo all'insorgenza di fenomeni degenerativi come fenomeni artrosici. Allora noi interveniamo con questa tecnologia che abbiamo mutuato naturalmente dalla ricerca del CNR, questi pazienti vengono trattati con questa matrice in organico-polimerica che non è altro che la costituente del tessuto connettivo per cui noi dobbiamo innescare un processo rigenerativo, questo biomateriale viene impiantato nel ginocchio, viene effettuato un curetage del difetto, una pulizia del difetto anatomico, viene posizionato il dispositivo e a distanza di un anno il paziente ripristina la sua funzionalità articolare attraverso la rigenerazione di un nuovo tessuto. Ora, ribadisco, questo credo sia un esempio di successo di collaborazione tra pubblico e privato. Noi siamo partiti da un bisogno clinico, che è quello della rigenerazione del comparto articolare per prevenire malattie artrosiche. Naturalmente questa tecnologia ci è stata riconosciuta poi anche dai decisori di spesa, quindi dal sistema sanitario nazionale, questo dispositivo è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Ad oggi noi abbiamo trattato più di 2.000 pazienti in Europa e anche nel mondo, ad esclusione degli Stati Uniti, dove adesso stiamo entrando. Gli Stati Uniti, come sapete, hanno delle procedure regolatorie molto restrittive, ma entreremo anche in futuro prossimo nel mercato americano. Come dicevo, abbiamo trattato più di 2.000 pazienti, abbiamo migliorato la qualità di vita di questi pazienti, dove andrà la medicina rigenerativa in futuro? Certamente andremo verso la customizzazione, cioè noi prenderemo in esame la patologia per ogni paziente e quindi noi renderemo disponibile una terapia per ogni singolo paziente tagliata su misura. E questa è la nostra mission. Grazie. Complimenti. Bravissimi. Bravissimi. Grazie. Grazie.